Musica 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 Tenere la palla in campo, torna Barnesi Barnesi si butta dentro, batte il suo avversario Quando sono passati due minuti e mezzo di gioco Barnesi con l'iniziativa individuale Appoggia qui alla fine del terzo quarto Barnesi fa saltare, benissimo, buoni Il Pire Vediamo Barnesi Guardato da Luizari, di tira in faccia Andrea Barnesi Va a segnare Ancora Barnesi Si va in un angolo, prende un tiro difficilissimo Ma non c'è niente Diciamo che partito ormette alti Continua ai suoi, arrivare almeno dietro Poi Barnesi contro Crematti Lo prende di mira, di tira in faccia Andrea Barnesi Segna il tiro libero Probabile che questa Ma la provi ci mostra un gran bel gioco Ora Barnesi da tre punti La mette Andrea Cosa orchestrerà questa volta? Manda al mare il difensore Arresta il tiro Da sei metri Banta e poi C'è la stoppata per Bassano Barnesi molto bene per scalco Si appoggia Quattro l'ombata Allora si basse Barnesi Che si sbarazza Di De Gregorio E si serve una sezione Perché stiamo regalando qualcosina Basta il pallo in attacco Per Spera bene andare a doppio Fa uscire il pallone La palla sull'altro lato Per Barnesi La mette lui Stratto Ora Barnesi Guardato da Ferrari Si butta dentro Si trova lui E segna Ancora una volta Spera bene